Ciao a tutti, vediamo quattro tipologie di uomini che non ti rendono felice. Allora, la prima tipologia è l'innafferrabile, quello che non è mai, è un po' una sorta di primola rossa, non si riesce mai ad afferrare, sempre sfuggente, sempre un po' ambiguo, si capisce bene esattamente dove vuole andare e quali sono i suoi obiettivi. E' molto seduttivo proprio per questa sua inafferrabilità, ma diciamo non ti renderebbe felice perché comunque gli uomini inafferrabili generano molta sofferenza e poi alla fine non arrivi più o meno da nessuna parte, insomma. Un altro uomo che non ti renderebbe felice per un motivo completamente diverso è il manager, quello che è completamente immerso nel lavoro. Tu vieni sicuramente dopo il suo lavoro, per cui non sarebbe una vita relazionale molto felice, e quindi poi alla fine finiresti per cornificarlo con il barista sotto casa, insomma, che ti darà più comprensione sicuramente. Quindi il manager è freddo, non dà affetto ed è totalmente concentrato sul lavoro, per cui da scartare, insomma. Un altro che non ti renderebbe felice è il mammone, perché il mammone è completamente concentrato, invece assorbito dalla mamma. Anche proprio la mamma diventa una forma pensiero che comincia a vivere nella sua testa e anche se non ci fosse più il pensiero della mamma, comunque alberga e continua a condizionare, a condizionarlo. E al quarto posto, la quarta tipologia è l'egocentrico, quello totalmente concentrato su se stesso, che diventa egoista, per cui le sue necessità vengono al primo posto e non ha, come dire, la sensibilità di cogliere le esigenze tue o della donna con la quale hai relazionato. Queste sono quattro tipologie di uomini che sicuramente non ti renderebbero felice se ti relazionassi con loro. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!